Per un minuto di storia con Mario, oggi 15 luglio, celebriamo la vittoria dei crociati. La prima crociata venne vinta il 15 luglio del 1099 con la sconfitta dell'esercito musulmano da parte di Goffredo di Buglione e Raimondo di Tolosa, che sono i crociati che fondano il regno di Gerusalemme. Il regno cristiano di Gerusalemme durerà un paio di secoli, fino al 1291, quando poi cadde definitivamente e mai più fu ricostituito, una data indubbiamente storica che racconta l'inizio di un'era importante che fu l'era delle crociate. Grazie